Il concerto è molto simpatica per noi. Se sente molto bene e meravigliosamente. Se sente felice di essere in Cuba. Ho seguito tutto il programma. Sono le medaglie del pontificato. Le medaglie del pontificato, sì. È un buon anno. Sempre mi hanno, sono stato trattato molto bene qua. Grazie. È un buon anno. È un buon anno. È una cospirazione del caso di todo. È un buon anno. È un buon anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.